Oggi celebriamo tre momenti importanti, il primo dei quali è sicuramente quello più distintivo e quello più significativo che è la sottoscrizione dei contratti dei collaboratori della ricerca che vengono oggi stabilizzati. Diamo una prospettiva non soltanto di stabilità nel rapporto di lavoro ma soprattutto anche nell'attività di ricerca che noi conduciamo nell'ambito del nostro istituto. In più oggi è l'occasione anche per fare la fotografia di ciò che è stato sviluppato negli ultimi anni e di illustrare quello che è il piano strategico dei prossimi anni. Quindi apprezziamo gli sforzi che hanno prodotto dei risultati che si sono registrati da un punto di vista della contabilità, dei numeri, della mobilità passiva, della crescita esponenziale del nostro istituto e soprattutto puntiamo ovviamente al futuro. Grande attenzione da parte della regione per l'istituto di ricerca cura e crata scientifico oncologico di Bari. Noi siamoci in un contesto di una fase di grande rilancio. La regione ci accompagnerà e sosterrà questo rilancio che non solo dal punto di vista della produzione, dell'assistenza e quant'altro ma anche della ricerca. Non è un caso che oggi si trova anche la possibilità di avere un punto fermo su tanti ricercatori che alla fine saranno stabilizzati.